Quali sono le famiglie di prima? Non è una fatica ad avere il capitale per poter acquistare, ma non solo, alcuni pezzi della domanda, parti della domanda non hanno nessuna intenzione di comprare, cioè il clima è così disordinato, così articolato, così incerto che l'affitto va benissimo e quindi per tutta una serie di generazioni la casa non è più il modello di riferimento di prima in qualche modo. In questo scenario così articolato il mondo delle nuove costruzioni arriva con delle offerte che sono normalmente in aree esterne alla città dove c'è una mobilità pesante da sobbarcarsi. La crisi ha inciso sui comuni esterni e sul livello dei servizi. Il modello di prima, le giovani coppie andavano fuori, prendevano una casa nuova un po' più grande a prezzo migliore, però si sobbarcavano il viaggio, ma comunque avevano il verde, avevano condizioni di un certo tipo. Ora i servizi non ci sono più, la mobilità incide moltissimo, il patrimonio offre una quota importante di mercato che prima non c'era, a prezzi concorrenziali, nelle aree vicine alla città e a questo punto la partita è semplice. Cambiata la tassazione sulle seconde case è molto alta, i costi di gestione e di manutenzione sono importanti, poi è arrivata la crisi e la crisi tocca i redditi delle famiglie italiane, anche di quelli che hanno case e soprattutto poi il valore di queste case è diminuito, secondo noi la perdita di valore delle case in Italia è tra il 30 e il 32% rispetto alla crisi, di molto più alto di altre stime che ci sono. Allora che cosa succede? Succede che queste famiglie che avevano questa casa hanno cercato di portarla a reddito, hanno cercato di venderla, ma è difficile, non riuscendoci hanno cercato di affittarla. In tre anni e mezzo abbiamo un terremoto, poi paghiamo i costi del terremoto. A questo punto potrebbe essere un tema interessante sul quale intervenire, però secondo me oggi servirebbe proprio un vero piano industriale che investa le nostre città, il mercato, il settore delle costruzioni e questo servirebbe molto alla ripresa del paese. È chiaro che c'è una fascia della domanda che non ce la fa proprio e quindi quello è edilizia sovvenzionata e ripensare a un certo modello di edilizia sovvenzionata. L'altra, probabilmente la risposta sta prevalentemente nel mercato dell'affitto, quindi un'offerta sociale in affitto, in affitto giocate in un certo modo. Oggi i tassi di interesse sono così bassi che consentono rendimenti al 3%, 2-8% concorrenziali e quindi con un'affordability alta da parte della domanda, redditizi per chi investe. Grazie a tutti i tassi di interesse.